La forza e l'astuzia del Principe, gli ultimi capitoli del Principe. Questa di oggi, comunque, non so cosa riusciremo a leggere, comunque sarà l'ultima lezione sul Principe perché la volta prossima voglio parlarvi dei discorsi sopra la prima decada di Tito Livio. Allora, il diciottesimo capitolo del Principe, senz'altro uno dei più importanti, però prima di iniziare a parlare del diciottesimo io vi farei sentire dei concerti di un compositore non molto conosciuto che ha scritto però una specie di sinfonia perusina, è una sinfonia dedicata a Perugia e insomma ci sembra una musica adatta come sottofondo alla nostra lezione. Tutti i capitoli del Principe hanno un titolo in latino. Il titolo del capitolo diciottesimo, Quomodo Fides a Principibus Sit Servanda, significa in che modo i principi debbano mantenere la parola data. Quanto sia laudabile in uno principe mantenere la fede, vivere con integrità e non con astuzia, ciascuno lo intende. Cioè tutti quanti sono d'accordo sul fatto che il principe deve essere un esempio di morale. Giusto? Siete d'accordo voi su questo? Non di manco si vede, tuttavia, si vede per esperienza dei nostri tempi, quelli principi avere fatto gran cose che della fede hanno tenuto poco conto. Il problema è questo, essere leali o essere sleali. Tutti sicuramente sono d'accordo su questo, che il principe dovrebbe essere un esempio di lealtà. Eppure, dice Machiavelli, guarda un po', i principi che hanno fatto grandi cose in questo periodo sono stati proprio i principi che sono stati meno leali. E' quelli che hanno tenuto poco conto della fede e che hanno saputo con astuzia girare i cervelli degli uomini, quindi quelli astuti, e alla fine hanno superato quelli che si sono fondati sulla lealtà. Sono stati quindi più potenti, più forti, di quelli invece che si sono appoggiati sulla lealtà. Perché il principe, ecco, lui usa delle immagini, ricordate di casticità di Machiavelli, usa l'immagine della volpe a questo proposito. Cioè bisogna essere astuti come una volpe. E anche essere violenti come un leone al momento opportuno. Dovete dunque sapere come sono due generazioni modi di combattere. L'uno con le leggi e l'altro con la forza. Quel primo è proprio dell'uomo. Quel secondo delle bestie. Cioè, se l'uomo combatte con le leggi e le bestie combattono con la forza, uno direbbe, beh, allora occorre usare le leggi. No. Ma perché il primo molte volte non basta, conviene ricorrere al secondo. Tante volte non basta seguire le leggi, le regole. Bisogna anche usare la violenza al momento giusto. Non fra di voi, perché ha età. Pertanto, a uno principe è necessario sapere bene usare la bestia e l'uomo. Il principe deve essere mezzo bestia e mezzo uomo. Questa parte è suta insegnata a principi copertamente ricorrendo alla mitologia dagli antichi scrittori di quali scrivono come Achille e molti altri di quelli principi antichi furono date a nutrire a Chirone Centauro che sotto la sua disciplina li custodissi. Il che non vuol dire altro avere per precettore uno mezzo bestia e mezzo uomo. Se non che bisogna a uno principe sapere usare l'una e l'altra natura. E l'una senza l'altra non è durabile. Non dura. Adesso vi spiego tutta questa frase che ho letto tutta di filato perché è fondamentale. È l'esempio degli antichi. Ricordate la lezione degli antichi qui fa riferimento ma anche a veri lo studieremo una volta prossima parlando dei discorsi sopra la prima decada di Tito Livio. Ebbene, lui dice qual è stato il più grande eroe descritto ad esempio nell'Iriade di Omero dell'antichità? È stato Achille. Bene, da chi è stato istruito Achille? Da Chirone. Chi era Chirone? Era un centauro cioè vuol dire mezzo uomo e mezzo cavallo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il principe deve essere formato in modo tale da usare non solo la natura umana ma anche la natura ferina al momento opportuno anche saper essere bestia. Cioè violento, un leone o astuto come una volta. questo è quello che ci hanno insegnato gli antichi e noi non dobbiamo dimenticarlo dice Machiavelli Sendo adunque uno principe necessitato sapere bene usare la bestia debbe di quelle pigliare la golpe e il leone. Ecco, attenzione ricordatevi che Machiavelli si esprime in fiorentino parlato nel fiorentino parlato non si dice volpe ma si dice golpe ecco perché è scritta con la G sta per volpe allora, anche qua continua con le immagini l'immagine che abbiamo già visto quella della volpe e del leone ecco, attenzione bisogna saper usare al momento opportuno essere volpe e al momento opportuno essere leone perché il leone non si difende da lacci il leone è forte, potente se però incappa nei lacci in certi tranelli ci cade dentro senza neanche rendersene conto la golpe non si difende da lupi la volpe non è forte come i lupi viene sottomessa dai lupi viene uccisa dai lupi il leone no perché il leone è più forte anche dai lupi e quindi ammazza anche i lupi quindi ecco fuori dalla metafora vuol dire al momento opportuno bisogna essere astuti quando invece è necessario essere forti e violenti bisogna esserlo coloro che stanno semplicemente in sul lione non se ne intendano vuol dire quindi che quelli che sono sempre solamente violenti certe volte non riescono a risolvere le situazioni capite cosa vuol dire non se ne intendano non può pertanto uno signore prudente né debbe osservare la fede quando tale osservanzia li torni contro e che sono spente le cagioni che lo feciano promettere quindi un principe saggio pertanto non può e non deve tener fede alla parola data quando l'osservanza di questa parola data li torni contro cioè gli risulti dannosa capite e che sono spente le cagioni che la feciano promettere quando sono venuti a mancare i motivi per cui ha formulato le sue promesse il principe non deve tener fede alla parola e questa è l'astuzia chi si affida esclusivamente alla qualità della forza come i leoni non si accorge no delle cose così come il leone non si accorge del tranello dei lacci capite e se gli uomini fossino tutti buoni questo precetto non sarebbe buono ma perché sono tristi non lo osserverebbero farebbero a te tu e Ziam non l'hai ad osservare a loro ecco il pessimismo antropologico di Machiavelli che trapela nuovamente se gli uomini fossero buoni questo precetto non sarebbe buono di essere astuti o violenti non sarebbe neanche efficace ma dal momento che invece che sono cattivi sono tristi e non la osservarebbero a te loro gli uomini non manterrebbero fede alla parola data con te anche tu a questo punto tu e Ziam questo è un latinismo che certe volte compare nel linguaggio un po' cancelleresco di Machiavelli anche tu e Ziam tu e Ziam non l'hai a osservare a loro anche tu non devi essere leale nei loro confronti né mai a uno principe mancarono cagioni illegittime di colorire cioè di simulare la inosservanzia a un principe non mancano mai delle scuse e giustificazioni per pretesti per giustificare la slealtà per giustificare il tradimento di questo se ne potrebbe dare infiniti esempi moderni e mostrare quanta pace quante promesse sono state fatte irrite cioè sono diventate prive di valore legale e vane per la infidelità dei principi e quello che ha saputo meglio usare la colpe è meglio capitato ci sono tantissimi esempi del tempo presente che ci fanno capire che molte promesse sono non sono state mantenute dai principi e quello che ha saputo usare di questa astuzia cioè di non so di dire di promettere qualcosa che poi non mantiene è meglio capitato se l'è cavata meglio ha avuto maggior successo ma è necessario questa natura saperla bene colorire ed essere gran simulatore e dissimulatore e sono tanto semplici gli uomini tanto obbediscono alle necessità presenti che colui che inganna troverà sempre chi si lascerà ingannare quindi è necessario comunque dissimulare mascherare queste intenzioni questa natura astuta diciamo essere gran simulatore e dissimulatore essere in grado quindi di fingere di fare di fare una cosa o di non farla gli uomini sono tanto semplici un po' ingenuotti e stolti tanto obbediscono alle necessità presenti cioè le circostanze del momento che colui che li inganna troverà sempre chi si lascerà ingannare io non voglio degli esempi freschi tacerne uno Alessandro VI che è il padre di Cesare Borgia e ricordate era papa appunto a cavallo fra 400 e 500 non fece mai altro non pensò mai ad altro che ad ingannare uomini e sempre trovò subietto da poterlo fare cioè riuscì sempre a trovare delle vittime insomma dei suoi inganni e non fu mai uomo che avessi maggiore efficacia in asseverare a sentirlo quando affermava una cosa o prometteva qualcosa sembrava davvero sincero e con maggiori giuramenti affermarsi una cosa che l'osservassi meno ma poi era anche quello che manteneva meno ciò che aveva promesso non di meno sempre gli succederono gli inganni ad votum cioè gli inganni gli riuscirono sempre secondo il suo desiderio ad votum è un altro latinismo perché conosceva bene questa parte del mondo cioè conosceva bene l'arte della politica il papa Alessandro VI a uno principe dunque non è necessario avere tutte le soprascritte qualità ma è bene necessario parere di averle quindi tutte le virtù tutte le qualità prima elencate bene ma è ben necessario averle ecco attenzione qua fa riferimento anche alle qualità di cui abbiamo parlato la volta scorsa leggendo il quindicesimo capitolo del principe essere religioso eh essere umano eh essere casto essere generoso ecco l'importante sembrare di avere queste qualità non averle sul serio eh anzi dirò di dire questo che avendole osservandole sempre sono dal nome addirittura se sei virtuoso questo va a danno del tuo potere politico e parendo di averle sono utile come parere pietoso fedele umano intero religioso ed essere quindi ritornano le stesse virtù di cui abbiamo parlato la volta scorsa il principe deve sembrare pieno di pietà deve sembrare fedele deve sembrare umano intero che vuol dire abbiamo detto la volta scorsa onesto leale religioso eccetera quindi attenzione parere non essere ma stare in modo edificato predisposto con l'animo che bisognando non essere tu possa sappi mutare il contrario essere sempre in grado a seconda delle situazioni delle condizioni di cambiare eh di adeguarsi insomma e tassi ad intendere questo che uno principe massimo è uno principe nuovo quindi come Cesare Borgia ad esempio come Francesco Sforza non può osservare tutte quelle cose per le quali gli uomini sono tenuti buoni sendo spesso necessitato per mantenere lo stato operare contro la fede contro la carità contro la umanità contro la religione insomma spiega Machiavelli che spesso il principe è costretto ad agire non secondo i valori morali ma seguendo il bene dello stato questo è implicito no insomma tutto quello che lui fa che sembra apparentemente immorale dal momento che lo fa per il bene dello stato è necessario e quindi è morale dal punto di vista di Machiavelli cioè della scienza della politica e però bisogna che egli abbia un animo disposto a avvolgersi secondo che eventi e le variazioni della fortuna li comandano è come di sopradissi non partirsi dal bene potendo ma sapendo entrare nel male necessitato perciò è indispensabile che il principe abbia un temperamento capace di adeguarsi cambiando il suo modo di procedere a seconda di quello che gli richiedono i venti della sorte i venti della fortuna come comandano questi è come di sopradissi non partirsi dal bene come ho già affermato in precedenza il principe non deve allontanarsi dai comportamenti moralmente corretti se è possibile ma deve essere capace di ricorrere a gesti anche malvagi immorali o cattivi quando è necessario necessitato ecco come vedete abbiamo anche sottolineato le parole chiave dei passaggi chiave del discorso di Machiavelli debbia dunque avere uno principe gran cura che non gli esca mai di bocca una cosa che non sia piena delle soprascritte cinque qualità quindi pietoso ricordate umano religioso eccetera e poi a vederlo tutto pietà tutto fede tutto integrità tutto umanità tutto religione quindi un principe deve avere grande cura che non gli esca mai dalla bocca una cosa che non sia piena di queste qualità e quindi apparentemente mostrare di avere tutte queste qualità e gli uomini universali giudicano più agli occhi che alle mani perché tocca vedere ognuno a sentire a pochi cioè gli uomini generalmente giudicano più in base all'apparenza che non alla realtà perché a tutti è concesso di vedere a pochi è concesso di toccare con mano ognuno vede quello che tu pari pochi sentono quello che tu sei allora se vi capiterà di essere degli uomini politici penso che potrete accogliere i suggerimenti di Machiavelli che sono molto utili dal vostro punto di vista o dal nostro punto di vista invece di elettori dobbiamo cercare di capire quando l'uomo politico pare appare in un modo ma non è in realtà così perché questo ahimè ho paura che sia frequente anche oggi dicevamo quindi e quelli pochi e ognuno vede quello che tu pari pochi sentono quello che tu sei e quelli pochi non ardiscano opporsi all'opinione di molti ci sono alcuni ad esempio sudditi di alcuni regni o principati eccetera che sentono bene quello che tu sei perché tu principe ad esempio li colpisci con il tuo rigore quindi con violenza ma questi pochi non ardiscano siccome l'opinione pubblica invece la mentalità dominante che prevale quella di un giudizio positivo su questo principe e allora non ha non hanno neanche il coraggio di dire come stanno realmente le cose molti che abbiano e quelli pochi non ardiscano siccome gli altri hanno dalla loro parte il potere capite cosa vuol dire i molti che abbiano la maestà dello Stato che li difenda è chiaro che i pochi non hanno neanche il coraggio di dire come stanno realmente le cose e nelle azioni di tutti gli uomini e massime dei principi dove non è giudizio da reclamare cioè da dove non c'è un tribunale a cui presentare una protesta si guarda al fine ecco si guarda al fine una frase dicevamo che è stata interpretata ma anche un po' forzata con la famosa espressione il fine giustifica i mezzi facci dunque uno principe di vincere e mantenere lo Stato ecco il bene dello Stato il principe si comporta si può comportare anche così per il bene dello Stato e i mezzi saranno sempre giudicati onorevoli e da ciascuno laudati perché il vulgo ne va preso con quello che pare e con lo evento della cosa e nel mondo non è se non vulgo e i pochi ci hanno luogo quando li assai hanno dove appoggiarsi ecco ecco diciamo così il principe deve mantenere lo Stato facci dunque uno principe di vincere e mantenere lo Stato i mezzi saranno sempre giudicati onorevoli perché perché il popolo la massa degli uomini ingenui superficiali viene conquistato da ciò che sembra dalle apparenze e con i risultati effettivi delle proprie azioni e nel mondo la maggior parte delle persone sono un vulgo cioè sono una massa senza una massa indistinta che non ragiona che non giudica che si lascia trascinare che valuta solo in base ad apparenze superficiali ed effimere e gli pochi ci hanno luogo quando gli assai hanno dove appoggiarsi i pochi uomini insomma che riescono a vedere la sostanza delle cose al di sotto delle apparenze non hanno modo di farsi valere dal momento che la massa trova un sostegno interessato nell'appoggio del principe alcuno principe dai presenti tempi quale non è bene nominare non predica mai altro che pace e fede ed è l'una dell'altra è inimicissimo e l'una dell'altra quando lei l'avesse osservata gli avrebbe più volte tolto o la reputazione o lo Stato Machiavelli qua allude al re di Spagna il re di Spagna Federico il Cattolico del quale però non gli conviene insomma dire esplicitamente che si riferisce a lui Guicciardini che era amico di Machiavelli anche se aveva diciamo così aveva adottato un punto di vista leggermente diverso nelle sue opere afferma che Ferdinando il Cattolico re di Spagna era pieno in tutte le azioni di incredibile dissimulazione e simulazione quindi è proprio lui a cui si riferisce Machiavelli bene il capitolo diciottesimo poi termina termina in questo modo passiamo quindi adesso al capitolo allora questo è il capitolo diciottesimo sempre però questi sono dobbiamo semplicemente sintetizzare adesso che cosa si dice nel capitolo seguenti c'è l'analisi delle cause per cui i principi italiani hanno perduto gli stati loro la crisi politica italiana le cause e i protagonisti quali sono le cause le sintetizziamo questa la mancanza di eserciti efficienti la mancanza del favore del popolo la mancanza dell'appoggio dei ceti dirigenti perciò questi principi principi italiani non accusino la fortuna ma cioè la malasorte in sostanza ma cerchino di creare presupposti perché le cose cambino quindi il capitolo 24 è il primo di una serie di tre capitoli che chiudono il trattato che sono tutti a tre riportati sul nostro libro 24, 25 e 26 qui Machiavelli fa un bilancio dei motivi per cui i principi italiani hanno perso lo stato il capitolo 25 passiamo adesso al capitolo 25 che si trova alla pagina 172 ebbene in questo capitolo Machiavelli riflette sul rapporto tra virtù e fortuna ecco allora la virtù e la fortuna contano nelle vicende politiche il 50% l'una e il 50% l'altra quindi occorre una straordinaria virtù per superare una straordinaria gravità dei tempi però l'uomo non deve rinunciare a lottare contro l'avversa fortuna il margine concesso è porre ripari alla fortuna quando essa è quieta quindi certe volte la fortuna travolge tutto con sé infatti la fortuna qui viene paragonata ad un fiume che travolge quindi nel momento dell'alluvione ma certe altre volte invece è più quieta è in quei momenti che può agire il principe con virtù ecco questo il capitolo quindicesimo scusate venticinquesimo è un grande capitolo metodologico si contrappone alle idee che erano in voga all'epoca il fatalismo rassegnato passivo prodotto dall'idea che le cose del mondo provenendo da Dio non si possono mutare è assurdo per Machiavelli perché abbiamo detto che effettivamente la fortuna è importante però per il 50% l'altro 50% dipende da noi dipende dalla virtù quindi se i principi italiani si danno da fare saranno in grado anche di combattere con la mala sorte la fortuna dicevamo è come un fiume rovinoso e quando si adira all'aga devasta ruina dimostra la sua potenza dove non è ordinata virtù a resisterle la virtù è paragonata agli argini che riescono a mantenere a incanalare questo fiume della sorte o della mala sorte gli argini preventivamente costruiti contengono il corso rovinoso del fiume è come quando insomma si parla tanto c'è un terremoto e si dice queste case sono crollate perché non erano state costruite bene bisogna pensarci prima è questo quello che dice Machiavelli nel campo della politica cosa vuol dire questo ecco esatto esatto cosa vuol dire questo per Machiavelli vuol dire bisogna creare i presupposti perché poi quando la fortuna ti è avversa non ti travolga bisogna creare gli argini dice questo una campagna senza argini è come una campagna senza riparo l'Italia purtroppo in questi ultimi tempi è davvero devastata dice Machiavelli si riferisce all'inizio del Cinquecento quando gli stranieri in particolar modo spagnoli nanzichenecchi eccetera ma anche francesi passeranno attraverso l'Italia per il lungo e per il largo insomma e senza nessuno che si opponga l'uomo è fabbro della sua stessa sorte fabbro della sua fortuna attraverso la virtù abbiamo detto può determinare il 50% dei fatti degli eventi questa è una visione laica è antropocentrica di una fortuna del tutto immanente la fortuna per Machiavelli non è pertanto un destino che è già assegnato per il quale non si può fare più niente no è un complesso puramente casuale di accidenti non diretti da alcuna volontà superiore non indirezzati verso alcuna finalità non c'è un providenzialismo ecco non c'è una volontà superiore che determina la sorte quindi di fronte a questo noi dobbiamo reagire dobbiamo saper reagire alla fortuna la fortuna è donna noi dobbiamo saper reagire ad essa e quindi essere impetuosi perché ci sono due come dire ci sono due modalità un principe ora felicità cioè ora ha successo ora ruina cioè perde tutto quanto perché per quale motivo perché non è in grado di adattarsi alla situazione certe volte è necessario essere rispettivo cioè quindi essere moderato certe altre volte occorre che il principe sia impetuoso invece anche istintivo e violento al momento opportuno e bisogna saper cambiare nel dubbio comunque dice è meglio essere impetuosi perché la fortuna è donna e per tenerla sotto bisogna batterla e urtarla oddio non si tratta evidentemente di un pensiero come dire di pari opportunità o una foto sì alla slide una foto alla slide alla foto alla slide questa qui ah sì attenzione non sono cose che sono state messe in questa slide così a caso ma è quasi una citazione adesso state facendo la foto alla slide ragazzi ma ascoltate vi basta vi è sufficiente leggere alla pagina C175 le ultime righe del capitolo 25 del principe dove Machiavelli dice la fortuna è donna è necessario volendola tenere sotto batterla e urtarla abbiamo scritto questa frase perché sulla slide anzi a dire la verità l'hanno scritta due alunni questi vedete queste ms puntato e r puntato sono delle alunne di un'altra classe di quarta liceo che hanno realizzato delle slide da cui io ho preso alcune di queste slide non hanno fatto altro se non copiare il testo di Machiavelli che state studiando alla pagina C175 riga 67 sì stavi dicendo scusa anche tu vuoi fotografare la slide oltretutto io vi lascio le slide nel computer non è che si ha bisogno di similemente interviene della fortuna la quale dimostra la sua potenza dove non è ordinata a virtù a resisterle e qui rivolta i suoi impeti dove lo sa che non sono fatti gli argini i ripari a tenerla queste invece sono frasi che provengono dalla prima parte del capitolo venticinquesimo è il discorso che abbiamo già fatto degli argini adesso però io è questa appunto la frase proprio che insomma che vi ho già riportato e che adesso ricopio un'altra volta e si vede che la fortuna la si lascia più vincere da questi da quelli impetuosi da quelli forti violenti che da quelli che freddamente procedano che procedono in un modo più razionale freddo quindi qua vuol dire con maggiore prudenza e cautela è però sempre come donna è amica dei giovani perciò tenete presente che però nel fiorentino parlato significa perciò è amica dei giovani perché sono meno rispettivi più feroci e con più audacia la comandano e così dicevamo termina il capitolo 25 leggiamo pertanto adesso il capitolo 26 che è l'ultimo capitolo del principe come al solito il titolo in latino exortatio ad capesendam italiam in libertatenquem a barbaris vindicam che vuol dire invito ai medici sottinteso cioè a un principe italiano insomma porca miseria che voglia unificare il nostro paese a seguire i consigli di Machiavelli per arrivare alla libertà è l'unità nazionale italiana affrancando il nostro paese dagli stranieri liberando il nostro paese dai barbari dagli stranieri considerato adunque tutte le cose di sopra discorse e pensando a me come desimo se al presente in Italia correvano tempi da onorare uno principe nuovo ci sono i tempi giusti perché ci sia un principe nuovo che prende il potere e che cerchi di unificare l'Italia e se c'era materia che desse occasione a uno prudente e virtuoso di introdurvi in nuova forma che facesse onore a lui e bene all'università degli uomini di quella mi pare concorrino tante cose in beneficio di un principe nuovo che non so qual mai tempo fosse più atto a questo ragazzi silenzio adesso non mi iniziate più la musica è stata buona perché allora state in silenzio perché sto spiegando il capitolo 23esimo che è importantissimo oh cioè questo è il momento giusto questo è il momento opportuno è l'occasione vuol dire proprio quando un popolo è schiavo esattamente come erano schiavi gli ebrei nell'Egitto oppure gli ateniesi vi ricordate quello che abbiamo letto sul sesto capitolo del principe qua viene riportato riferito ecco questo è il momento giusto è l'occasione giusta perché ci sia un principe nuovo non c'è un momento più adatto a questo e se come io dissi era necessario volendo vedere la virtù di Moise che il popolo di Israele fosse schiavo in Egitto e a conoscere la grandezza e l'animo di Ciro che i persi furono oppressi dai medi illustrare l'eccellenza di Teseo che gli ateniesi fossero dispersi così al presente come loro così anche noi oggi dice noi italiani siamo schiavi come erano schiavi i persiani dei medi poi è arrivato Ciro e li ha guidati e ha creato un impero poi non so gli ateniesi erano dispersi erano sottomessi ai cretesi abbiamo detto poi è arrivato Teseo la stessa cosa può accadere adesso e allora si rivolge con grande impeto al principe dei medici in particolar modo a Lorenzo prende in mano la situazione e guida il nostro popolo verso la libertà verso l'indipendenza e benché fino a qui si sia mostrato qualche spiracolo in qualcuno da poter iudicare ecco attenzione si è intravisto qualche barbaglio di questo possibile grande principe abbiamo visto ad esempio nel Cesare Borgia tuttavia adesso è proprio il momento opportuno perché ne salti fuori uno nuovo Tamen si è visto da poi come nel più alto corso delle sue azioni purtroppo Cesare Borgia proprio nel momento in cui era all'apice del potere ha perso il padre che è morto e da lì poi tutte quante le sue disgrazie adesso è il momento per un nuovo principe che sarà appunto lui spera Lorenzo De Medici e ponga fine ai sacchi di Lombardia questo principe riesca a far terminare i saccheggi della Lombardia i lanzichenecchi avevano saccheggiato la Lombardia prima di andare a saccheggiare addirittura Roma però questo dopo dopo che ha scritto il principe è successo questo le taglie del Reham e di Toscana lo guarisca di quelle sue piaghe già per lungo tempo infistorite qui è giustizia grande giustum enimest bellum è giusta la guerra quibus necessarium per i quali necessari et pia arma le armi sono pie sono devote sono giuste sono consacrate sono sacre ubi nulla nisi in armis spes est laddove non c'è nessuna speranza se non nelle armi volendo dunque la illustre casa vostra si rivolge a Lorenzo dei Medici la casa vostra sarebbe la famiglia dei Medici seguitare quegli eccellenti uomini che redimirno le province loro è necessario innanzi a tutte le altre cose come vero fondamento ad ogni impresa provvedersi d'armi proprie ecco attenzione però i Medici dobbiamo pensare a questo non milizie mercenarie ma armi proprie perché non si può avere né più fidi né più veri nei migliori soldati di quelli propri di quelli insomma che vengono dalla propria nazione che sono i nostri sudditi e poi qua prosegue dice chi potrebbe opporsi abbiamo sottolineato questa frase chi tra gli italiani potrebbe opporsi a questo grande progetto il progetto di creare finalmente uno stato nazionale in Italia come ce ne sono stati come ce ne sono in altri per altre nazioni in altri paesi e allora quali sono le ultime parole del principe sono parole di Petrarca virtù contro furore prenderà l'arma e fia il combatter corto la lotta sarà breve perché vinceremo noi che l'antico valore nell'Italia ancora non è morto non è ancora morto il valore il coraggio degli italiani grazie grazie grazie